secondo me qua troviamo davvero qualche morto è tutto un materiale edile però che hanno buttato giù da sopra questo passo carraio figaro figaro vasce che ne chio porca trota guarda tutto di tutto granito questo qua figaro allora questo va bene lo possiamo bypassare ma può essere può essere benissimo sembra il stelaio di una moto basta scavare figaro va che blocchi di granito che hanno buttato via questo è il stelaio di una moto basta che non c'è stato anche il pilota tanto ormai si è qui c'è fogna almeno capiamo dov'è però da dove arriva figaro se è fognato qua se è infognato qua mamma mia arriva fuori quel tubo lì sicuro perché è più sul pulito si arriva da quel tubo lì vabbè è solo un pezzettino però anche qua non è che sia bellissimo sai che qua non ci sono mai venuto davvero anche quel sasso l'ha in bilico eh non gridare troppo forte si questo viene fuori proprio da qualcosa però vabbè quando noi passiamo passi sotto intanto che butta giù si fa la dose bravo si pensa che c'è chi di svaso figaro la carreta si si qua dobbiamo passare sopra qua se è forte perché di lì por cacchio che ci passi quello non verrà via se no la versione hard è da qua sopra prima era tutto così sotto l'a era tutto fatto così tutto hanno fatto quel lavoro lì prima era tutto così ho 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 «